Un video per ricordare YouTube anche io, è un fermo immagine di tre anni fa che ringraziava i fan dei primi 100 iscritti che fu l'inizio di una serie di grandissimi successi sia in termini di visualizzazione che di iscritti, lo voglio ricordare col suo sorriso solare, gioioso, poi era molto spiritoso, molto allegro e lo voglio ricordare così.